Sto usando il microfono delle cuffie, si ragazzi Smite, va bene Ciccio, se no te lo ruba la passiva Più 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 Lo fa senza smite, fa lo smite al rosso Eh, non è da brutto Vabbè, non ha tutti i torti in questo caso Oh, what the fuck Minion, stop, please E non è già lo stanno Ho già paura Beh, ci ha perso lei Sì, però Oh, Annie, Annie, vieni qui Ascolta, push o già io? Ti faccio una road to bronze con un click sinistro che giuro Devi lasciare il più velocemente possibile perché Io disinstallo il gioco Vai Oh, ma che sei qua? Luciano, Luciano, Luciano Calmati, non te lo batto la bicicletta Io non so bene come muovermi qui I trade aggressivi di livello 2, eh, questi Donna mia, la violenza è gioco Ma io spammo la W test perché devo recuperare HP Tranquillo, tranquillo, io sono una persona non violenta Eh, loro un po' sono un po' violenti, devo dire Eh, Annie, facciamo va Annie quanto vorrebbe No, 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 lei continuerà così finché Lucia non fa E-2-2-A-T-A-Q-2-A-T Facchio Vado a casa, eh, però, basta, cioè Sì Andiamo a casa Uh Dai via, bimba Bimba Più Pipponi Aspetta, aspetta, mi voglio far reportare